Prosegue costante l'impegno della Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica sia a livello nazionale che locale. Indagini accurate da parte della Procura regionale della Corte dei Conti sulla gestione del mattatoio comunale di Rieti hanno permesso di accertare irregolarità nell'applicazione delle tariffe stabilite dagli enti locali. In particolare è stato riscontrato che il principale cliente del mattatoio, una società operante nella catena della macellazione di animali per diversi anni aveva beneficiato di uno sconto per la macellazione di bovini, equini e bufalini 55 euro per capo anziché 80 euro come dovuto in base alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. La fatturazione di importi minori rispetto a quelli legittimamente dovuti ha prodotto delle perdite gestionali quantificate in circa 800.000 euro. Il Tribunale Civile di Rieti ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell'imprenditore di importo pari al mancato incasso accertato mentre le responsabilità erariali dei pubblici funzionari sono tuttora al vaglio della Procura Contabile.